Ciao, mi chiamo Shizuka Kondo, sono una modella di KyanKyan. Oggi sono qui per dare una notizia molto buona. KyanKyan, la rivista di moda per le ragazze giapponesi, comincerà il programma ufficiale su YouTube. E potrete guardare e sapere la moda, il fashion delle ragazze giapponesi. Allora, guardate la rivista e anche il nostro programma. Grazie, ciao!